Salve! Allora, ieri ho fatto un video su questo pedale Mewer, Baby Water, che non c'è scritto addirittura. Vabbè, adesso ve lo faccio sentire, è Chorus, Chorus ilimensionale, Echo, Chorus è dentro dentro la delay e delay dentro il Chorus. Allora, ho un Bags, quindi partiamo da un sistema di amplificazione decente, non quel cazzo di peso che se lo potrebbero risparmiare. Meglio comprare uno e trasportarlo da chitarra a chitarra. Partiamo dal suono normale. Non amplificato. Passiamo al suono amplificato, senza il more. Oh, I can't get you out of my mind. Però c'è il reverberto, no? Aspettate, vedate, aspettate che lo ribelliamo. Oh, I can't get you out of my mind. Chorus, tutto a mezzogiorno più o meno. Gli altri piccoli tre. Pomellini, ecco. Mettiamole più bassi, vi dalle giusto un tocco. Aurea 9. Senza. E aurea 9 si sente un po'. Aurea 11. Chorus, un po' più pacchiano. Chorus, un po' più pacchiano. Chorus. Chorus. Chorus, un po'... Chorus, un po'. Chorus. Non è enorme la differenza. Ecco Un po' scocciante Mettiamo A di meno Non è un po' anche di questo tempo Rate, mettiamo Rate più piano Però mettiamo più livello a profondità Adesso meglio Troppo vero Chorus in delay Quattro vero Chorus in delay Si senti di più Chorus in delay Chorus in delay Chorus in delay Chorus in delay Vediamo, mettiamo velocità al massimo Vediamo che viene fuori Chorus in delay Ecco Ecco Il basso è molto veloce Man mano che si va avanti rallenta Contrario 1 Non finisce mai Chorus in delay 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 allora questo adesso l'ho intonato basta, intoniamolo bene allora ecco qua ho intonato mezzo tono sotto ovviamente se vi faccio e piace fare bending o fare un certo tipo di rock che non è il certo il 011 con l'accordatura standard è duro specialmente se non suonate mai l'acustica adesso fanno il rumore della madonna ecco questo veloce ecco questo veloce queste sono molto molto brillanti e molto troppo brillanti per essere una risposta con queste cose qua ecco qua adesso il canto era solo per dare un senso a questo accompagnamento ma che da muta sentite come è questo pedale che vi ho fatto vedere è per acustica però vediamo come funziona suona elettrica probabilmente non suonerà bene con uno fatto apposta per elettrica ma non suonare ma non suonare ma non suonare ma non suonare cosa succede quando li muovete quando ancora state suonando ma... ma non suonare lerin No 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 Ok, seconda cosa, acquisto, passato, passato, con l'esposizione, questa è un'amplificazione, quindi, queste sono le corde nickel and bronze con bottom heavy, vuol dire che le corde, le tre corde più basse, le facciamo a 4.32, è intonato a 4.32, è intonato a 4.32, a 5.32, è intonato a 4.32, è intonato a 5.32, è intonato a 6.35, è intonato a 5.30, è intonato a 5.35, Oh, I can't get you off of my mind When I try, you're just wasting my time Oh, I try, and I try, and all night long I cry I can't get you off of my mind Little thing you owe me behind Okay I can't get you off of my mind 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 è comoda da suonare ovviamente se è più piccolo beh, sono corde 0-13 questa è 56 questa no beh, la differenza c'è poi questi sono nuovi ovviamente sono meglio però sugli avuti per esempio sicuramente questa è è diversa la differenza c'è va bene penso che sia abbastanza lungo questo video volevo aggiornarvi poi lo vedete a pezzetti se vi va a rivederlo arrivederci